5.000 euro in contanti versati dall'imprenditore che gestisce il locale servizio di raccolta rifiuti per i carabinieri e la mazzetta che serviva ad assecondare le richieste dell'assessore alla nettezza urbana di Grumo Appula, Nicola Lella, 30 anni, titolare anche delle deleghe all'urbanistica e alla polizia locale, finito agli arresti con le accuse di estorsione e concussione. Le porte del carcere di Bari si sono aperte anche per l'amico che lo avrebbe aiutato, un 34enne costruttore edile. Le indagini dei carabinieri di Modugno erano iniziate il 24 luglio a seguito dell'incendio di uno dei mezzi di trasporto utilizzati dall'azienda di igiena urbana. Da ulteriori approfondimenti è emerso che l'assessore Lella avrebbe istigato alcuni operatori ecologici a non procedere alla raccolta di rifiuti, incentivando anche uno sciopero collettivo solo in apparenza connesso a problematiche logistiche interne all'azienda. In realtà, secondo quanto ricostruito dai militari, le condotte pilotate dall'assessore avevano l'obiettivo di creare una serie di disservizi e mettere in cattiva luce l'azienda, al fine di minacciarne l'interruzione della collaborazione con il comune. Tali difficoltà per gli inquirenti sarebbero state superate se il titolare avesse corrisposto all'assessore una somma di denaro o assecondato assunzioni di personale da lui indicato. Alla luce di quanto emerso, i carabinieri hanno effettuato dei mirati servizi di appostamento sino a sorprendere Lella e l'imprenditore proprio nel momento in cui si scambiavano il denaro. All'appuntamento era presente anche l'amico dell'assessore che ha tentato di allontanarsi rapidamente con i soldi ricevuti dalla vittima. Per entrambi è scattato l'arresto e il trasferimento nel carcere di Bavi, l'imprenditore invece non è indagato ma parte offesa nell'indagine.